Ciao a tutti, oggi prepareremo le crespelle di San Giuseppe. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore e 30 minuti circa. Ingredienti sono farina di tipo manitoba, acqua, lievito di birra fresco, sale, zucchero e uva sultanina ammollata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero ed azioniamo il bimbi per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina, il sale, e facciamo impastare per 20 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola e lasciare lievitare per 30 minuti. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto, adesso incorporeremo l'uva sultanina un po' per volta. Lasciamo lievitare per due ore in forno spento. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto, friggiamolo in abbondante olio caldo, versandolo con un cucchiaio. crispelle di San Giuseppe. grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti. grazie a tutti.